Cioè ragazzi, sono disperata, voi non potete neanche capire cosa mi è successo, è una cosa davvero terribile che non glielo auguro nessuno, sono davvero giù, cosa mi è successo? Cioè, i miei capelli, mi hanno detto che ho troppi i capelli. Vabbè ragazzi, ovviamente era uno scherzo, o meglio un mezzo scherzo, volevo semplicemente un po' ironizzare, ironizzarci sopra, ecco. Questa scenetta era semplicemente perché effettivamente mi sono tagliati i capelli, mi sono tagliata tanto i capelli, ovvero, cioè erano davvero lunghi e mi sono tagliato questo pezzo anzi di più, perché questo era il pezzo che è stato tagliato nel pre-taglio, quindi poi nel taglio vero è stato tagliato anche un centimetro in più, insomma, ecco. Quindi, questi sono 15 centimetri, anzi forse di più, e cioè più di un anno di capelli, però vabbè, ci voleva. Ok, allora, io sono andata dalla porchiera per che i miei capelli avevano bisogno di un taglio, era da un anno che non ci andavo. Ho colto l'occasione per farmi aiutare a farmi le mesh nere, che di solito facevo io da sola, e solo che sto giro ho colto l'occasione anche per farmi fare meglio dietro, perché ovviamente finché sono davanti riesco anche senza grandi problemi a farmele da sola. Quando si tratta di farle dietro, capite che, insomma, ecco, avere un'altra persona che me le fa, fa comodo, ecco. Quindi ho colto l'occasione sia per farmi fare le mesh nere, che per farmi anche sistemare i capelli, quindi con un bel taglio, e ecco, sono state tagliate un pochino troppo, però non importa, cioè, nel senso, non mi sono, non sono disperata, ecco, era all'inizio, era semplicemente un po' uno scherzo, e, è stato tagliato tanto, però, essendo comunque che i miei capelli sono sottili, e io non sono molto rigia a tagliarli, cioè, se li tagliassi ogni 2-3 mesi di un centimetro, allora posso permettermi anche di tenere una bella lunghezza, perché so che i capelli, almeno anche fino alla fine, fino alle punte, sono belli sani, perché, appunto, ci sto dietro e li taglio spesso. Ma, nel mio caso, siccome non mi piace tagliarmi i capelli, e quindi ci vado, ci vado, vado a tagliarli una volta all'anno, circa, è ovvio che quando mi trovo, mi trovo a tagliarli, cioè, ho tutte le lunghezze, non dico che sono doppie punte, anzi, perché, in realtà, qua di doppie punte non ce ne sono, ok? Usando i prodotti che uso, non ho doppie punte, però, semplicemente, i capelli sono comunque un po' svibrati, un po' sciuppati, un po' rovinati, come è giusto che sia, insomma, ecco, dopo un anno che le punte rimangono così. E quindi, in quel caso, se ritagli dopo tanto tempo, è ovvio che devi tagliarli più, per, comunque, avere una bella lunghezza, una lunghezza sana, ok? Un capello sano. Quindi, niente, vi volevo far vedere il mio nuovo taglio, sono molto corti rispetto al mio solito, però, vabbè, tanto crescono, e, ecco, insomma, sarà l'occasione per provare di nuovo il look. Beh, insomma, comunque, dei look un po' visivamente diversi, ecco, tutti sono magari abituati a vedermi con i capelli molto lunghi, suggerisco quelli corti, cercherò di fare un po' più sbarazzina, ecco. Dopo, se mi dite che sembrano ancora più giovani di quello che già sono, vabbè, insomma, vabbè, beh, ci sta. Ecco, e, niente, fatemi sapere cosa vi sembra. Ecco, comunque, adesso andrò a tagliarli, non tra un anno, ovviamente, andrò a tagliarli, magari tra sei mesi, e allora taglierò solo due centimetri, in modo da mantenerli un po' più, le lunghezze, sane. Ecco, lunghette, però, però sane, cercherò di fare, fare il taglio, sì, di essere un po' più liggia, la bronchiera, una volta all'anno. Va bene, ragazzi, commentate, rideteci sopra, fate quello che volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao!